I ragazzi sono sempre più precoci e purtroppo anche in questo caso non si smentiscono. Si abbassa l'età della ricerca dello sballo a tutti i costi. Quindicenni in coma etilico, undicenni strafatti di droghe sintetiche adolescenti che rincorrono pillole e spinelli. La cronaca ce ne racconta tante, ma tante altre forse le tace per paura di dare troppa visibilità ad una realtà inquietante. Convinti invece che occorra fare luce su questi fenomeni per imparare a comprendere prima ancora che a reprimere, sono i protagonisti del progetto Pescara Sicura, realizzato dal Comune, dall'Università d'Annunso e dalla ASL, in accordo con la Prefettura e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'azione sinergica, che si avvale di un finanziamento ministeriale di 350.000 euro, sarà operativa per 12 mesi, coinvolgendo 31 scuole e 13 dipartimenti universitari, e si articolerà su 1100 test di controllo. Il comandante della Polizia Municipale di Pescara, Danilo Palestini, i professori Marcello Locatelli e Cristian Dovidio, il dottor Fabio Savini, responsabile dell'Unità Operativa di Farmacologia dell'ASL di Pescara, hanno spiegato il progetto nei dettagli, tecnico-operativo, scientifico e sociale. Tra i pilastri dell'iniziativa figurano il modernissimo laboratorio mobile e le 50 bodycam in dotazione agli agenti della Municipale. Preziosi, naturalmente, anche gli incontri dell'Ateneo e dell'ASL con gli studenti, e il laboratorio mobile On the Road con la Polizia Municipale. L'obiettivo è anche svolgere un'azione di prevenzione degli incidenti stradali, attraverso lo studio delle correlazioni tra i sinistri e lo stato di alterazione psicofisica e l'assunzione di droghe o alcol. L'indagine statistica e sociale sull'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici punterà al coinvolgimento diretto degli studenti delle superiori e dell'Università per sensibilizzarli, informarli, educarli con incontri a tema, workshop e insegnamento tra pari. Il progetto Pescara Sicura, rivolto particolarmente ai giovani, quale messaggio volete trasferire a loro? Un progetto molto importante perché mette insieme diversi attori e cerca di affrontare l'argomento con un approccio omogeneo e complessivo, dal punto di vista della prevenzione e così come dal punto di vista del contrasto. In che modo si può dare un messaggio di attenzione in questo momento, in particolare ai giovani, soprattutto a quelli che non considerano un rischio il coronavirus? Dal punto di vista del coronavirus noi dobbiamo lavorare sul piano della responsabilità. Devo dire che qui a Pescara nell'ultimo anno tutti abbiamo dato un grande senso di responsabilità, abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità. Quindi bisogna lavorare insieme. La lotta contro il coronavirus ci ha dimostrato che occorre un approccio omogeneo, cioè superare quella barriera cittadina e istituzioni ma essere tutte e due dalla stessa parte.